Il Tar riapre le scuole sospendendo l'ordinanza della Regione Campania a firma del Presidente Vincenzo De Luca ed in più tra i tratti del decreto i giudici amministrativi chiariscono ulteriormente l'aspetto di ogni forma di discrezionalità sulle ordinanze. La dettagliata normativa di rango primario si legge nel decreto e dunque sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo, discipline in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in pandemia, il che esclude l'emanazione di ordinanze che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività. Non è possibile un'idversa regola dunque quando già esistente le ordinanze emergenziali si giustificano nell'ordinamento e si fanno legge nel caso concreto solo e ova ricorra, oltre all'urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie. Non si residua spazio, si legge ancora nel decreto, per disciplinare diversamente l'attività scolastica in stato di emergenza sanitaria in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario. Nel decreto i giudici amministrativi sostengono anche che neppure risulta che la regione Campania sia classificata tra le zone rosse. L'aumento dei contagi nel territorio regionale non è specificatamente riferito alla popolazione scolastica. I sindaci dell'Agro nella giornata di ieri hanno prodotto un comunicato stampa congiunto appena arrivato alla sentenza del TAR in cui specificano di non volere entrare nel merito né delle ordinanze né del TAR limitandosi a comunicare alle varie comunità il ritorno all'attività scolastica in presenza. Intanto il sindaco Di Pagani, De Prisco, sottolinea un aspetto. Purtroppo, dice, ancora una volta i sindaci e la popolazione sono isolate in balia di protocolli governativi confusi e poco realistici e di una gestione della politica regionale non sempre puntuale e solerte alle esigenze delle comunità.